Ciao, sono Elisa e sono una cantante sorda. Ho chiesto a sei persone cosa pensino della sordità. Andiamo a scoprirlo insieme. Difficile, è la propria domanda difficile da mangiare. So veramente poco. Che domanda è? Che domanda è? Che domanda è Elisa? Posso immaginare qualcosa? E in realtà ne so relativamente poco. Non so nulla. Abbiamo chiesto a queste sei persone di mettersi delle cuffie speciali. E questo è come senti tu. Questo è come sento io. E questo è come sento io. Con le macchine. Andiamo a vedere com'è andata la loro giornata da persona sorda. Stai scherzando? Non sento niente. Scusi, non ho capito. Non ho sentito niente io. Oh mio Dio. Veramente difficile. Non ho sentito arrivare. Elisa. Capito? Mi capisce? Amma mia. Amma. Aiuto. Eh? Eh? Che confusione. Impossibile. Come? Passo a taglierlo. Evidentemente. Cioè, non ho una questione. Non ho capito. Sei emozionata? Sì. Sì, si vede. Non isolateci. che 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 faccia. Non beneficio.